18 gennaio 2018 sono passati 365 giorni esatti dalla tragedia del 18 gennaio del 2017 quando una valanga travolse e distrusse il resort l'hotel Rigopiano di Farindola. A un anno di distanza oggi si è tenuta una giornata la giornata del ricordo per non dimenticare per omaggiare quelle 29 vittime che non sono riuscite ad uscire vive dalle macerie dell'hotel Rigopiano. Una giornata importante una giornata di commozione una giornata che ha visto tanti eventi prima a Rigopiano questa mattina alle 9.45 con la deposizione di una corona e di mazzi di fiori dinanzi all'ingresso dove fino a un anno fa c'era l'hotel Rigopiano e poi la fiaccolata con 29 fiaccole accese in ricordo delle 29 vittime, fiaccolata dei parenti delle vittime ma anche di tanti semplici cittadini di Farindola che non hanno voluto mancare e non potranno mai dimenticare quello che è accaduto un anno fa. Oggi sono qui perché voglio stare insieme ai parenti delle vittime e voglio ricordare insieme a loro tutto quel dolore che abbiamo passato in quei giorni. Giampiero Parete si sente un miracolato? Sì, non sappiamo che cosa abbiamo fatto noi per meritare questa cosa e che dovrei fare io in futuro per sdebitarmi di tutto questo bene che mi è venuto anche addosso adesso. Il pensiero per i parenti delle vittime, per quelle persone che invece non ce l'hanno fatta, qual è? Io ce l'ho sempre nel mio cuore perché ho vissuto il loro ultimo giorno di 29 angeli e è difficile da dimenticare, sto sempre al pensiero con loro. Che idea lei si è fatta di quello che è accaduto e a distanza di un anno che cosa pensa? Non le chiedo dell'inchiesta di eventuali responsabilità, le chiedo però un suo pensiero diciamo su quello che è accaduto se minimamente qualcuno poteva immaginare che accadesse una cosa del genere. Io ho taciuto per un intero anno perché ho cercato di capire, ho cercato di ascoltare. Certo che se veramente esistevano un'ora di volo dei mezzi militari in grado di arrivare a Rigopiano e quindi di evacuare l'albergo, certo che se questa notizia dovesse risultare vera, cioè niente. Il dolore che finora ho contenuto sicuramente diventerebbe rabbia. E poi la messa, la messa celebrata dal vescovo di Pescara Penne, Tommaso Valentinetti, nella chiesa di San Nicola di Farindola, una cerimonia eucaristica per rendere omaggio alle 29 vittime della tragedia di Rigopiano. La fede non serve per dire signore non mi far succedere questo, non mi far succedere quest'altro o perché non hai fatto questo o perché non hai fatto quest'altro, perché non hai fermato la valanga. No, la fede serve perché queste cose comunque accadono per farci attraversare le prove e le prove si devono attraversare con coraggio, ma d'altra parte la prova più dura anche della nostra vita sarà il passaggio della morte. E poi il pomeriggio che ha visto altri eventi presso il Palasport di Penne con il piccolo concerto di Piero Mazzocchetti con la proiezione di un video di filmati in ricordo di queste 29 persone che non ce l'hanno fatta. E poi ancora eventi con le poesie lette dai ragazzi delle scuole e tanti altri momenti toccanti e commoventi per ricordare a distanza da un anno dalla tragedia dell'hotel Rigopiano.